Musica Ben ritrovati ad Ultima TG, apriamo con il caso legato ancora ad Antonello Montante in carcere dopo l'operazione denominata Double Face, decade anche dalla carica di presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e di Union Camere Sicilia mentre la commissione regionale antimafia si occupa della vicenda, viene assegnata la scorta al GIP che si occupa dell'inchiesta Emergono delle novità sul caso Montante, l'ex leader di Confindustria Sicilia arrestato per associazione a delinquere e corruzione nell'inchiesta della DDA della Procura Nissena non è più il presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta La sua carica è decaduta a seguito delle dimissioni formalizzate da 5 componenti del Consiglio Camerale che hanno determinato il conseguente scioglimento dell'organismo Montante perderà anche la carica di presidente di Union Camere Sicilia Una decisione attesa da parte di alcuni rappresentanti delle istituzioni come il presidente dell'antimafia regionale Claudio Fava che ha chiesto proprio al governatore nello Musumeci spiegazioni rispetto alla mancata rimozione Dopo la notizia arriva subito la risposta di Musumeci Non appena domattina il segretario generale della Camera di Commercio di Caltanissetta ci comunicherà le dimissioni presentate oggi da 5 consiglieri l'Aggiunta regionale adotterà la delibera e io firmerò il decreto di scioglimento del Consiglio Camerale E intanto è proprio la Commissione regionale antimafia che si appresta ad entrare nel merito dell'istruttoria aperta sul cosiddetto sistema montante Su questo è il vicepresidente dell'ARS Giancarlo Cancelleri a chiedere la diretta radio dei lavori che potrebbe essere seguita da Radio Radicale Altra novità arriva dalla procura di Caltanissetta Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha assegnato la scorta al GIP Maria Carmela Giannazzo che si occupa dell'inchiesta a double face e di quella riguardante il giudice Silvana Saguto ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo accusata di aver gestito in modo personalistico i beni confiscati alla mafia La decisione, secondo quanto si apprende è stata presa a scopo precauzionale alla luce di un quadro generale che emerge da intercettazioni e non di un fatto specifico Si tiene anche a Palermo in difesa della Costituzione solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è attaccato da coloro i quali ne richiedono l'impeachment Volessa la testimonianza dei democratici davvero attorno al presidente è un grazie per il lavoro che il presidente ha svolto con grande pazienza, con impegno, con attenzione per riuscire a dare un governo a questo paese Dopo la richiesta di impeachment nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è scattata anche a Palermo la solidarietà nei confronti del capo dello Stato Questo il sit-in organizzato dal Partito Democratico Le forze che dicevano di avere vinto le elezioni non sono state in grado o forse non hanno voluto dare un governo al paese Questa è la verità, lo dicano Il presidente della Repubblica ha fatto di tutto per accompagnare la nascita di un nuovo governo Oltre a Palermo, iniziative analoghe si sono svolte anche a Siracusa e Catania Nei confronti di Mattarella in questi giorni stiamo assistendo a un vero e proprio linciaggio social e mediatico da parte della Casaleggio Associati Una vera e propria strategia eversiva messa in campo dal Movimento 5 Stelle che meritava e merita una risposta forte e decisa da parte di tutti i soggetti democratici che credono alla difesa della libertà della democrazia e della Costituzione I dipendenti della formazione professionale aderenti all'USB hanno occupato oggi pomeriggio la sede dell'assessorato alla formazione professionale di Palermo La decisione al termine di un incontro che i rappresentanti sindacali hanno avuto con l'assessore Roberto Lagalla durante il quale si legge in un comunicato è venuta fuori la cruda verità sulla volontà degli schieramenti politici del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle a non voler far passare l'emendamento che garantirebbe il futuro occupazionale ai dipendenti del bacino della formazione sia sportelli che interventi Vi diamo l'intervista a Sandro Cardinale del sindacato USB Sì, in Dato Nierma si è svolto un incontro con l'assessore Lagalla e il direttore generale Silvia dalla discussione che ne è venuta fuori c'è stato un malcontento e una presa di posizione ovviamente dalla USB ma non tanto nei confronti dell'assessore stesso perché da quello che abbiamo visto si stanno muovendo in cal senso nel senso che c'è questo emendamento che è in discussione in queste ore all'Assemblea regionale però quello che è emesso è che ci sono alcune forze politiche che non hanno alcuna intenzione di far passare questo emendamento ovviamente questa è una cosa da noi inaccettabile perché se la regione oggi ci dà un segnale positivo di ripresa del lavoro di questo bacino di lavoratori a livello regionale sono circa 5.132 così facendo praticamente non diamo alcuna possibilità a questi lavoratori di riprendere il loro lavoro e questo non possiamo accettarlo allora per lanciare un segnale politico abbiamo pensato di occupare l'assessorato alla formazione L'intervista è stata realizzata telefonicamente con un sindacalista perché alle telecamere non era concesso entra all'interno della sede dell'assessorato alla formazione professionale di Palermo durante ovviamente l'occupazione e continuiamo a parlare ancora di problemi legati al mondo del lavoro Mirmex Catania situazioni poco chiare denunciano i sindacati di categoria che penalizzano ulteriormente i lavoratori stamattina la protesta davanti al Palazzo dell'Ese sede a Catania della regione siciliana Un tiro e molla che dura da sei anni voci di acquisto incontri che non ci sono stati e rassicurazioni che faticano ad essere accettate dai lavoratori ex impiegati che non ci stanno e fanno accuse ben precise puntando il dito pure contro l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza si è ripalesato il dottor Giusti che ha contattato noi lavoratori anzi abbiamo avuto anche un incontro la scorsa settimana lui è venuto da Istanbul ha avuto un incontro con l'assessore Razza lunedì giorno 21 dove lui presentava il suo volere di investire qui a Catania prendendo l'intero compendio sia il laboratorio che i lavoratori della Mirmex oppure se non era possibile prendere il laboratorio Mirmex anche qualche altro stabilimento lui avrebbe fatto qui un laboratorio di produzione e di ricerca farmaceutica allora il dottor Razza lo ha ricevuto ne hanno parlato e ha detto che avrebbe riferito al presidente Musumeci ha dato un altro incontro al dottor Giusti per giovedì però in realtà si è defilato il dottor Razza lasciando il dottor Giusti così nel nulla non ha alcuna risposta, non c'è nessuna risposta dalla regione Quello di oggi è l'ennesimo atto dicono i lavoratori di un lungo tiro e molla cominciato nel 2010 quando il laboratorio di ricerca venne ceduto per il prezzo simbolico di un euro proprio alla Mirmex una decisione subordinata però al mantenimento degli impegni sottoscritti e garantiti dalla regione con la delibera della giunta regionale del 5 agosto 2011 prima e in seguito con la medesima normativa dello scorso 23 ottobre a firmo nel governo Crocetta Oggi la nostra protesta deve essere una protesta un po' più pesante perché avevamo di fare qualcosa di più eclatante però lo stiamo facendo in maniera pacifica perché abbiamo questa mezza promessa del presidente è naturale se entro lunedì non abbiamo riscontro noi da lunedì partiremo con una protesta ad oltranza perché noi nel caso che ci danno un altro due di picche per lunedì noi stiamo anche interpellando la magistratura e vorremmo che la magistratura cominci ad indagare e inoltre vogliamo anche condattare il procuratore Zuccaro anche perché ci sono due delibere che sono sul tavolo del presidente della regione sulla salvaguardia del nostro posto di lavoro e non le vogliono mettere in pratica I posti di lavoro dei 261 operai del passante ferroviario di Palermo sono ancora a rischio oggi si è accesa una protesta sotto le porte di Palazzo d'Orlean a Palermo Continua ad oltranza lo sciopero dei lavoratori della SIS l'azienda appaltatrice del passante ferroviario di Palermo l'opera che attraverso 30 km in linea ferrata prevede il collegamento tra l'aeroporto internazionale di Palermo e la stazione centrale della città costata 700 milioni di euro oggi rischia di rimanere incompiuta a causa di un contenzioso tra SIS e rete ferroviaria italiana una vicenda che tra diretti e indotto coinvolge circa 450 operai che rischiano di perdere il posto di lavoro oggi sotto le porte della presidenza della regione si è accesa una protesta i lavoratori infatti chiedono a gran voce risposte concrete sul loro futuro occupazionale Oggi abbiamo deciso di manifestare di venire qua ad aprire un tavolo tecnico-politico direttamente con il dottore Musumeci se ci riceve perché oggi siamo qui per farci vedere ed essere visibili alla problematica visto che la politica ancora non si prende cura di quello che sta avvenendo A noi non sta bene la recessione di contratto che fa l'azienda perché noi vogliamo che l'azienda finisce il lavoro che ha un senso di sicurezza sia per la città che per il lavoro perché se la SIS si va via da questa opera non si finirà più questa opera Previsto per domani un incontro con il governatore della Sicilia Nello Musumeci e l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone con l'obiettivo di aprire un tavolo tecnico Ieri ci ha ricevuto l'ingegnere Palazzo il numero uno delle ferrovie dicendoci che tutto era a posto tutto era in ordine tutto è andato siete stati fortunati poi nei conti quando ci sono stati reso conto di quello che dovevamo ancora fare in pratica ci ha detto che tutto quello che si deve fare si doveva fare e appaltare per cui oggi come oggi siamo tutti a casa E adesso vi raccontiamo davvero un caso che ha dell'incredibile in esclusiva qui a Ultima TG la storia di un ciclista che è stato praticamente pestato di botte da un'automobilista Una passeggiata in bici degenerata in una lite con pesanti conseguenze è quanto accaduto lo scorso 22 maggio sulla strada provinciale 115 di Paternò nel Catanese dove un gruppo di tre ciclisti avrebbe ostacolato la marcia di un'auto portando il conducente ad aggredire uno dei membri del gruppo Andavamo quasi in fila intiana solo che non eravamo proprio sulla testa perché la strada non era in buone condizioni un autista un'automobilista ci ha suonato ci ha passato la prima volta ci ha passato la prima volta stringendoci noi abbiamo fatto finta di niente e ci ha ripassato un'altra volta questa volta facendo l'azione di tagliarci la strada abbastanza violenta in questo senso Un diverbio che inizialmente sembrava solo di natura verbale ma che poi è sconfinato nella violenza Dopo un battibecco con parole abbastanza pesanti sembrava che tutto fosse finito la strada era bagnata quando abbiamo perso un'altra volta la bici i miei colleghi si sono un pochettino allontanati da me lui ha approfittato che ero solo e mi ha tagliato un'altra volta la strada è sceso dalla macchina e mi ha sferato un pugno rompendomi il timbano e facendomi altri danni all'occhio eccetera Dopo giorni di riflessione Claudio Fusto ha deciso di pubblicare su Facebook le fotografie che lo ritraevano con il volto tumefatto raccontando quanto accaduto lo ha fatto per denunciare un limite culturale che si fa sempre più evidente e che arriva anche ad atti di violenza Ormai si è staurato un odio tra il ciclista e l'automobilista e anche se a volte l'automobilista può avere ragione perché noi in gruppi non inseguiamo bene bene le regole però arrivare al punto di essere vestato sinceramente o essere investito è una cosa che sinceramente non mi va a non aiutare un'evoluzione culturale la mancanza di piste ciclabili che costringe gli amanti della bici a invadere le carreggiate creando un inevitabile impaccio agli automobilisti io faccio anche delle gare a nord e lì ci sono piste ciclabili che durano anche 180-150 km piste non ciclabili vicino alla strada piste che sono in mezzo alla natura e la strada neanche si vede quella per gli automobilisti quindi è normale che lì sopra l'approccio con il ciclista è diverso un'auto porcheggiata nel porticciolo di Onnina è finita in acqua è successo oggi sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale di vigili del fuoco insieme al personale della sezione navale dei vigili del fuoco di Catania che hanno provveduto al recupero del mezzo secondo le prime ricostruzioni il proprietario dell'auto stava caricando la sua canoa gonfiabile sopra il tetto della macchina senza freno a mano quando avrebbe ricevuto una telefonata che lo avrebbe distratto l'auto una Toyota Iaris grigia che vedete nelle immagini è caduta nella scivola di alaggio per le barche sono iniziate le demolizioni di 13 immobili abusivi ad Altavilla Milicia comune in provincia di Palermo costruite tutte sulla battigia e buona parte con scarichi abusivi a mare le ruspe hanno iniziato questa mattina le opere che consentiranno di liberare un tratto di spiaggia che tornerà fruibile per turisti e residenti vediamo il racconto per immagini della mattinata sta succedendo nulla di eccezionale credo che sia succedendo quello che ogni buona pubblica amministrazione dovrebbe fare ovvero sia rimuovere situazioni di contrasto alla legalità ripristinare ordine e restituire poi alla libera fruibilità ciò che violentamente gli è stato sottratto attraverso insediamenti abusivi tipo quelli alle nostre spalle sono state costruite una trentina d'anni fa io sono sindaco da un anno e mezzo in questo anno e mezzo devo dire col supporto degli uffici abbiamo subito avviato una seria concreta azione di contrasto all'abuso edilizio specialmente di quell'abuso che effettivamente come in queste zone è assolutamente violento è turba e inibisce davvero lo sviluppo economico di un territorio oltre che la possibilità di fruire di beneficiare di posti belli che appartengono alla collettività che non possono essere espropriati da singoli presentato questa mattina a Palermo il rapporto sul credito nel 2017 l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao si dice fiduciosa sulla ripartenza dell'economia nell'isola la strada verso l'uscita dalla crisi è ancora lunga e tortuosa ma in fondo al tunnel si vede uno spiraio di luce ne è convinto l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao che stamattina ha presentato a Palermo il rapporto sul credito 2017 Armao chiede fiducia alle banche con l'erogazione di crediti per famiglie e imprese siciliane emerge una situazione di grave disagio sulla quale intendiamo intervenire siamo in parte intervenuti attraverso la legge di stabilità con misure in favore delle famiglie e delle imprese proprio a sostegno del credito a sostegno dei confidi mediante i tranche cover cioè sistemi di ingegneria finanziaria volti a sostenere l'accesso al credito a parte a parte delle imprese e di più si farà nei prossimi mesi con misure volte proprio a sostenere dal microcredito ad altre forme di incentivazione la difficoltà del ricorso al credito a parte delle famiglie siciliane ma cambia anche il volto delle banche siciliane alcuni storici istituti di credito hanno deciso di chiudere nell'isola altri invece hanno preferito unire le forze la situazione delle banche è che il numero delle banche decresce perché alcune sono state incorporate come voi sapete banca nuova è cessata perché è stata incorporata la banca intesa e altre aggregazioni si stanno realizzando i due grandi istituti siciliani sono scomparsi quindi c'è una diminuzione noi dobbiamo sostenere le banche che ci sono ma soprattutto sostenere l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese siciliane che soffrono oltre misura la crisi di liquidità modalità e cifre sul piano di risenamento della Sostare l'unica partecipata del comune che registra un forte attivo oltre mezzo milione di euro di utili taglia le spese per 300 mila euro e nuove colonnine altamente tecnologiche in arrivo numeri e dati della Sostare l'azienda partecipata del comune di Catania che ha appena approvato il bilancio consuntivo del 2017 interventi e sviluppi realizzati sulla base di un nuovo rapporto tra utenze e servizi tutto a vantaggio della collettività questa azienda Sostare oggi ha sostanzialmente gli stessi dipendenti che aveva cinque anni fa circa 200 dipendenti oggi 200 dipendenti tutti regolarmente assunti a contratto senza situazioni di precariato grazie alla presidenza dell'avvocato Blasi e alla dirigente dell'azienda pensate questa azienda nel 2013 perdeva con la sua attività perdeva circa poco ma circa 50 mila euro all'anno in qualche momento ha perso anche di più prossimo passo aumentare e migliorare le modalità del servizio tenendo sempre conto dell'utenza sicuramente l'utente che paga non è mai soddisfatto questo mi consenta la battuta però ritengo che il servizio che noi stiamo dando stia anche riavvicinando il cittadino alla sostare soprattutto per quanto riguarda la sosta notturna la sostare viene identificata e ritengo anche giustamente come la sosta a pagamento tuttavia la sostare si occupa per la città di Catania anche di quella che è parte della segnaletica orizzontale tutta la segnaletica verticale tutta la semaforica e il comparto rimozione sono tanti purtroppo i quartieri catanesi abbandonati dalle istituzioni e che portano i segni di un degrado inequivocabile ad affiancare chi vive ogni giorno questa realtà difficile esistono però realtà come quella dell'associazione Cappuccini degrado assenza delle istituzioni dispersione scolastica siamo nel quartiere Cappuccini in pieno centro storico catanese vie lunghe strette dimenticate dal mondo dove tutto si riduce troppo spesso a una lotta per la sopravvivenza trasformando il cemento che ricopre quelle strade in terreno fertile per la malavita a fare le spese del vuoto lasciato da istituzioni che si fingono cieche sono soprattutto i bambini che popolano il quartiere ragazzini costretti a diventare subito grandi che spesso cercano di riscattarsi e venticarsi contro quella fetta di città che li ha dimenticati imboccando la via della delinquenza a non lasciarli soli però ci pensano realtà concrete come quelle dell'associazione Cappuccini che da vent'anni affianca le famiglie di quel quartiere con l'aiuto di giovani volontari tutto è cominciato circa vent'anni fa quando una mia alunna all'ospedalieri mi ha chiesto di dare una mano per il quartiere prevalentemente si fa dopo scuola sia per la gente del quartiere elementari e medie ma anche per ragazzi di scuola superiore di tutta Catania noi impariamo la ricchezza della familiarità veramente con con l'altro e impariamo a conoscere noi stessi in quest'ultimo anno ho conosciuto molti bambini di altre culture di altri mondi ragazzi del Senegal bambini del Senegal ma avviene appunto quella che è il miracolo dell'ospitalità e della quotidianità attraverso degli incontri che sono che lasciano il segno che cambiano completamente per me lavorare qui significa indubbiamente andare a sfidare la chiusura di un ambiente degradato come quello che frequentiamo noi l'ambiente in cui nascono i bambini appunto via prebiscito il quartiere Cappuccini le istituzioni potrebbero aiutarci dandoci più spazi in cui far giocare i bambini oppure luoghi semplicemente più belli dal punto di vista architettonico in modo tale che la bellezza passe e quindi si sia anche più invogliati a studiare e dei bambini con difficoltà quelli che nascono su una nave che li porta verso la speranza la nave Aquarius sbarcata a Catania il servizio è stato dato alla luce lo scorso 26 maggio a bordo della nave Aquarius la nave di ricerca e soccorso gestita in partnership da Medici Senza Frontiere ed SOS Mediterranea la sua nascita è stata davvero un miracolo così come il suo nome si chiama Miracle insieme alla mamma sono ricoverati all'interno dell'ospedale Garibaldi Nesima stanno bene e oggi la ragazza sarà dimessa quando riguarda la madre abbiamo accertato che il parto non aveva lasciato diciamo dei segni di patologie abbiamo controllato ovviamente quello che si fa di rito in questi casi le condizioni comunque erano abbastanza buone e quindi non c'erano emorragie o altro e quindi è stata ricoverata ma prontamente la ragazza che è molto giovane tra l'altro si è ripresa da questo stress il bambino era assolutamente idratato aveva anche una buona suzione perché la mamma se l'è subito attaccata al seno anche se poi era molto stanca quindi ha pensato di mettersi a riposo ma è ritornata poi di pomeriggio per allattare il bambino la mamma ha raccontato all'equipe di medici senza frontiere a bordo di aver trascorso un anno in Libia di essere stata tenuta prigioniera picchiata di aver ricevuto pochissimo da mangiare e di aver subito estorsioni per ottenere soldi per il rilascio poi è fuggita dal suo compagno e da luglio avrebbe iniziato il suo viaggio della speranza se pensiamo la tragedia di queste persone da dove vengono fare un viaggio molto lungo sicuramente sono fattori di stress importanti trasferirsi in un paese nuovo in queste modalità è una condizione di stress molto forte che noi psicologi la facciamo rientrare in una condizione prettamente traumatica sembrerebbe che la ragazza con delle competenze straordinarie che la natura fornisce naturalmente se stressate questa è la condizione può palesare degli atteggiamenti difensivi la sua è una storia come quelle che purtroppo rappresentano la sofferenza la voglia di cambiare vita e di combattere contro il proprio destino anche a rischio della vita credo che arrivare qui una madre in condizioni buone e un bambino in condizioni buone credo che questo sia il miracolo di certamente di tutto il sistema di organizzazione che c'è alla base l'accoglienza in questo momento vanno i complimenti perché è un lavoro di squadra e noi in questa squadra svolgiamo il nostro piccolo compito adesso ci fermiamo per la pubblicità poi subito dopo lo sport tra i nostri servizi installatore block shaft restauro auto d'epoca vetri oscurati rinnovo fari montaggio kit xenon sensori di parcheggio modifiche tuning verniciatura con colori ad acqua sikens ricarica aria condizionata ritiro auto al proprio domicilio auto di cortesia consulenze di sbrigo pratiche sinistri collabora con un buon system per la riparazione di auto grandinate e ammaccature da parcheggio senza interventi di verniciatura autocarrozzeria in saldo a catania in via grasso finocchiaro 91 e via gaetano donizzetti 52 54 stanco del traffico cittadino con la nuova integrazione amt fce puoi prendere autobus e metropolitana con un solo abbonamento scegli quello che fa per te e sali a bordo per maggiori informazioni visita amt.ct.it o circunetnea.it ti prepari a scalare l'Etna? per conquistare la vita del vulcano attivo più alto d'Europa patrimonio dell'UNESCO la funivia dell'Etna da oltre 50 anni con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada ti porterà fino ai 3000 metri di quota funivia dell'Etna come stare seduti sul divano di casa e se sei un tour operator contattaci Ben ritrovati Ultima Tg Sport il Palermo a porte chiuse che ha previsto un amichevole con la primavera Stellone si dice fiducioso la squadra cresce e il gruppo sta trovando la giusta forma non è facile arrivare pronti alla sfida di giorno 6 serve concentrazione e cattiveria ieri pomeriggio il tecnico ha lavorato sulla mentalità e proprio sulla tattica i Rosa Nero hanno svolto allo stadio Renzo Barbera i consueti lavori di attivazione eseguiti da un riscaldamento tecnico e un lavoro tattico la scelta di allenarsi al Barbera e anche pressaggiare la tenuta del campo e le condizioni del manto belle notizie arrivano dall'infermeria il difensore Giuseppe Bellusci ha lavorato regolarmente con il gruppo il suo recupero adesso non è più un miraggio riattletizzazione il lavoro con i fisioterapisti invece per Ciocev Coronado Ingegneri Raikovic Rolando e Struna Stellone ieri anche ha annunciato che Rolando sta pienamente recuperando e sarà utile in un centrocampo a tre o come esterno puro Morganella e Ingegneri sono reduci dai due lunghi infortuni non saranno quasi sicuramente arruolabili ma di sicuro faranno parte del gruppo che partirà per Venezia o Perugia Davidovic impegnato con la sua nazionale al mondiale in Russia è quasi sicuramente escluso ma se torna e starà bene Stellone sa che potrà contare su di lui ed è probabile che giochi nel frattempo il Palermo ha deciso dopo l'amichevole di oggi contro la primavera ci sarà il rompete le righe per un paio di giorni ripresa molto probabilmente per venerdì prossimo e poi due giorni di partenza per un mini ritiro di tre giorni prima della gara da decidere la sede se è vicino Perugia o nei pressi di Venezia in base alla vincente dei preliminari dei playoff Vigile dei playoff anche per il Catania e Rosso Azzurri partiti per Salò dove domani alle 20.30 affronteranno la Feralpi Una lunga attesa che sta per terminare la truppa Rosso Azzurri è partita alla volta di Salò dove inizierà la scalata alla Serie B contro la Feralpi tutti a disposizione del momento ha parlato ai microfoni di Catania Social Club il direttore sportivo Cristiano Argurio Una stessa lunga perché abbiamo chiuso la regola season il 6 di maggio e sapendo di dover iniziare quello che io ho sempre definito una sorta di campionato del mondo aspettare tanti giorni non è facile però abbiamo fatto lavorando tanto lavorando bene recuperando anche alcuni calciatori che proprio all'ultima giornata avevano magari avuto qualche piccolo acciacco qualche altro che invece veniva dai fortuni di lungo costo che invece adesso ha recuperato pienamente siamo tutti disponibili tranne un solo il nostro giocatore che ha qualche problemino muscolare per il resto per mercoledici dovremmo essere tutti quindi l'attesa è passata adesso si gioca è quello che noi volevamo e siamo siamo pronti a sfidare questa squadra che sicuramente è una squadra comunque temibile società giovane stadio piccolo ma tanto entusiasmo quello che ha portato all'eliminazione dell'Alessandria per questo la Feralpi Salò non può essere sottovalutata è stata la sorpresa ha già fatto due vittime illustri quindi bisogna stare attenti non c'è niente per il scontato sicuramente c'è quel vantaggio che diciamo prima che loro hanno giocato già qualche partita potrebbero essere stanchi però in realtà dall'altra parte c'è la lontananza dalla partita vera da tanto tempo da parte del Catania spero che sicuramente abbia fatto bene fisicamente e mentalmente perché gli altri sicuramente mentalmente sono molto carichi hanno poco da perdere e quindi sono un avversario molto pericoloso data del 28 maggio che evoca ai tifosi rossazzurri la storica promozione del 2006 emozioni uniche che si spera di tornare a rivivere incalcolabile ma poi non era solo lo stadio non era solo Massimino era tutta la città che respirava un'aria particolare io si sentiva a parte che si sentiva tutta la settimana e lì è stata solo una conferma quel giorno ma da appena siamo arrivati e adesso parliamo dei giochi delle isole 2018 che sorridono alla Sicilia si sono ufficialmente conclusi i giochi delle isole 2018 22esima edizione quest'anno di scena a Catania per la Sicilia un trionfo l'undicesimo in assoluto secondo posto per le Canari con 5 classifica finale che ha visto nel podio anche la Corsica e le Baleari rispettivamente seconda e terza soddisfatti il presidente del COGIS Antoni e del CONI Sicilia D'Antoni per un'edizione ben riuscita sotto il punto di vista organizzativo vittorie in tante discipline per i siciliani in quella squadra trionfi nel volley nel basket femminile terzi invece nel calcio col successo delle Baleari negli sport individuali successi nel triathlon con la squadra formata da Nina Cartaino Enrico Messina Thea Costanzo Luigi Saporito nel nuoto con Flavio Sciortino vincitore dei 1500 metri Gianmarco Grifo record dei giochi nei 50 metri Giulia Conti nei 200 metri misti Giulia Fontana e Gabriele Bosco nei 100 metri d'orso Marzia Gasparini e Gianfranco Perna nei 100 metri stile libero nell'atletica Sicilia che si impone nell'asta uomini con Gianluca Alcamo e seconda nel Giavellotto con Luca Grasso successi anche nell'asta donne con Lisa Papa e nei 3000 metri con Paolo Morfino e Angela Pagano nell'alto terzo Gaetano Loduca nel tennis tavolo successo nel singolo maschile per Simone Sofia seconda tra le donne Nicoletta Criscione alla Corsica il premio fair play dei giochi prossime quattro edizioni già assegnate ai paesi ospitanti ancora in Italia nel 2019 all'isola d'Elba Baleari Corsica e Guiana in quelle successive presentato ufficialmente a Giarre la ventesima cronoscalata Giarre Montesalice Milo il 6 e l'8 luglio sarà il grande weekend della ventesima edizione della cronoscalata Giarre Montesalice Milo organizzata come sempre dall'Automobile Club a Cireale in collaborazione con la scuderia automobilistica Giarre Corse e il patrocinio dei comuni di Mitrofi Per quanto riguarda l'edizione di quest'anno non ci sono variazioni di percorso tutto come l'edizione precedente che poi tra parentesi è stata fatta soltanto un paio di mesi fa chiaramente abbiamo spostato la data per venire incontro a delle esigenze delle forze dell'ordine della prefettura della commissione di vigilanza per evitare coincidenze con altri eventi che ci sono sul territorio e che sappiamo tutti essere la Lotto Brata di Zafferana che per un mese impegna parecchio un po' tutti Alla presentazione ha presenziato anche Domenico Cubeda il pilota catanese protagonista della serie Tricolore detentore del TVM Sud 2017 appena tornato dopo l'ottimo secondo posto ottenuto su Osella FA30 sulla Torre Mezzo Verzenghis 19 edizioni tutti 19 sempre in maniera attiva ho partecipato sia all'interno come diciamo segretario o altre figure simili fino a quando poi ce ne siamo occupati un bel giorno io il dottore Trovato e altri del gruppo dell'Acilia Cireale chiaramente il nostro gruppo diciamo è un gruppo storico un gruppo nutrito che ha portato avanti questa manifestazione insieme a me al dottore Trovato e a tutti quanti fino ad arrivare diciamo con una bellissima soddisfazione alla ventesima con una scalata la ventesima Giarre Montesalice Milo a cui sono abbinati anche nel 2018 il Memorial Isidoro di Grazia in ricordo di uno tra i fondatori della corsa unitamente al Cavaliere Angelo Pennisi attuale presidente dell'Automobile Club a Cireale e il secondo trofeo Santa Venerina voluto dall'omonimo Comune Etneo ha visto confermata da AC Sport la duplice prestigiosa validità per il trofeo italiano velocità montagna sud e per il campionato siciliano della specialità la gara è valida anche per il campionato siciliano di autostoriche noi il nostro sforzo enorme ogni anno di portare a complimento una gara di casa come dici tu perché la gara della Gerremilo è di tutti di tutti i siciliani in particolarmente i catanesi perché essendo in provincia di Catania la viviamo tutti come la gara di casa le iscrizioni alla ventesima cronoscalata automobilistica Giarra e Montesalice Milo si apriranno nelle prossime ore ed è tutto vi ringrazio per aver seguito il nostro Ultima Tg Giarra e Montesalice Giarra e Montesalice Grazie a tutti